Sono stati tutti domati e bonificati, anche con l'intervento di Cana delle delicotteri regionali, i principali incendi che ormai da una settimana sconvolgono il territorio imperiese, tenendo impegnati i vigili del fuoco e volontari della protezione civile giorno e notte. Questa mattina restava attivo soltanto il ruogo di Cenova, frazione di Rezzo in alta Valle Roscia, ma in terda mattinata purtroppo un incendio sviluppato si acconna nell'entroterra di Andorra raggiunto Tovo Faraldi. Da oggi, comunque, ad Armanforte e ai volontari imperiese ci sono anche quelli giunti in rinforzo dal Piemonte e dalla Lombardia. Stando ad una prima stima, nel solo territorio imperiese sono andati in fumo 2.000 ettori di bosche pascoli. Intanto i carabinieri, in particolare il neonato nucleo di tutela ambientale, formato da personale che prima apparteneva al corpo forestale, ha avviato le indagini per cercare di individuare i responsabili di questa devastazione. In base ai primi accertamenti effettuati non si tratterebbe di un unico e grande disegno criminale, ma dell'azione di più persone che con motivazioni diverse hanno approfittato del vento molto forte per creare il maggior danno possibile.